Nicola Montalbini, cosa è successo? Purtroppo ho fatto un errore in curva dopo la serie di whoops, mi sono sbilanciato un po' troppo in avanti, sono andato con tutto il peso del corpo sul freno e mi si è spenta la moto. Mi dispiace perché avevo un buon passo, potevo anche vincere visto che ero in testa, però vabbè, sarà per la prossima.